Caliendo, buonasera, punto della situazione su questa commissione che dovrà decidere tagliare o tagliare, anzi la notizia è già uscita in realtà? No, quella cosa che era uscita era una bozza che si arriva a sei mesi fa, quindi non c'entra nulla. Non è vero che avete già deciso? No, assolutamente. Quindi ci potreste stupire? Questa è una cosa che si vedrà, non è che posso essere, sa che siamo i cinque. Però stupiteci qualche volta, no? Siamo i cinque a decidere, scusate. Il ministro Di Maio ha detto, il senatore Caliendo è in conflitto di interessi perché questa decisione ricadrà anche sul suo vitalizio. Guarda, a me tagli è talmente minimo, sono da manco 200 euro. Le situazioni non si valutano persone per persone, è solo una questione di diritto. No, ci siete dentro tutti, infatti c'è dentro anche lei in questa decisione, cioè nel senso alla fine la cosa toccherà anche il suo di vitalizio. È un po' il ritorno della casta. E che sarebbe una stupidata?